su una radiolinea numero uno. Diamo il ben ritrovato al dirigente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro Pierluigi Rausei. Oggi parliamo di patente accrediti. Eccolo qui. Ben ritrovato. Ben ritrovato Francesca e ben trovati ai radioascoltatori. Parliamo di patente accrediti. Ne parliamo perché in questo fine settimana il governo ha ritenuto di dare attuazione a un principio normativo già eh introdotto dal decreto diciannove del duemila ventiquattro nella scorsa primavera. Siamo eh di fronte alla patente accrediti e cioè a un documento, un titolo che viene rilasciato a tutte le imprese eh che operano con lavoratori all'interno dei cantieri temporanei e mobili, in particolare quelli dell'edilizia, ovvero alle imprese individuali senza lavoratori o ai lavoratori autonomi che operano negli stessi cantieri. Dal primo di ottobre duemilaventiquattro nessuno, impresa o lavoratore, potrà lavorare all'interno eh di queste strutture senza il possesso di questo documento. Peraltro un documento di cui dovrà mantenersi la validità di crediti nel senso che il documento viene rilasciato con trenta crediti iniziali ma se il documento scende sotto i quindici crediti non è più possibile lavorare, i crediti vanno reintegrati. Eh sintetizziamo le ragioni di questo eh di questo intervento. Il legislatore è intervenuto sul decreto ottantuno del duemila otto che contiene il testo unico in materia di salute e sicurezza e lo fa nella convincimento che eh la sicurezza sul lavoro possa in qualche modo essere migliorata dal possesso di un titolo che attesta che l'azienda ha una regolarità fiscale, una regolarità contributiva, una regolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro perché adempia tutti gli obblighi fondamentali dalla valutazione del rischio alla costituzione del servizio prevenzione e protezione e alla sua operatività. Un'azienda che non ha sanzioni eh in materia di levante, in materia di sicurezza sul lavoro, che non ha precedenti che possano in qualche modo turbare o eliminare appunto la fiducia del mercato e la garanzia della della tutela della salute e della sicurezza. In qualche modo questo titolo rilasciato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro consente di operare con la garanzia che il committente privato o la stazione appaltante pubblica abbia scelto l'operatore giusto quindi il committente o il subappaltatore abbia scelto eh il soggetto che in qualche modo sia correttamente presente in cantiere. La procedura è una procedura tutta telematica. Il decreto attuativo è il decreto ministeriale diciotto settembre eh duemilaventiquattro numero centotrentadue pubblicato nella gazzetta di venerdì eh una gazzetta ufficiale di venerdì ed è operativo e già in vigore e la circolare attuativa è la circolare quattro del ventitré eh settembre duemilaventiquattro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Si entrerà nel portale nazionale del lavoro eh dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro a partire dal primo di ottobre eh potranno essere rilasciate le patenti ai soggetti che hanno i requisiti che abbiamo accennato e cioè l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'adempimento degli obbligo in materia formativa per i lavoratori, l'adempimento in obbligo di valutazione dei rischi, la titolarità del documento unico di regolarità contributiva, la titolarità della congruità fiscale della certificazione di regolarità fiscale e la designazione e l'operatività del responsabile del servizio protezione e prevenzione. Eh si entra con trenta crediti nel titolo iniziale, i crediti però possono aumentare e diminuire, diminuiscono a fronte di violazioni della materia sicurezza e salute, possono essere largamente diminuiti, se si scende sotto i quindici non si può più operare in cantiere finché non si viene riabilitati e non si riconquistano i crediti. I crediti possono aumentare, ad esempio un biegno senza nessuna sanzione fa aumentare di un credito e così via attraverso attività migliorative della sicurezza sul lavoro, degli abiti tecnologici, della formazione del personale. Ovviamente si eh sospende anche la patente, si sospende nei casi gravi, quando eh vi è la morte di un lavoratore per responsabilità e colpa grave del datore di lavoro di uno solo delegati e così quando c'è un'inabilità permanente del lavoratore legata sempre a colpa grave degli operatori datoriali. Ovviamente mentre di fronte alla morte del lavoratore la sospensione per dodici mesi fino a dodici mesi di automatica nel caso di inabilità la sospensione è operata in ragione delle dei casi eh circostanziali valutati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Contro i provvedimenti di sospensione della patente si potrà fare ricorso alla direzione interregionale eh del lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e su questo provvedimento che verrà rilasciato a media modalità telematica sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro si giocheranno le sorti della regolarità delle imprese nei cantieri edili. La speranza, la fiducia dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Ministero del Lavoro è quella di trovare in azienda eh lavoratori perfettamente regolari e in piena tutela della salute e sicurezza che quindi nei cantieri edili possa elevarsi la qualità della tutela per aumentare anche la possibilità di una garanzia di salute e sicurezza il che vorrebbe dire finalmente cominciare ad abbassare il livello di guardia degli infortuni sul lavoro almeno in questo settore. Una patente a crediti raccontata dal dirigente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro Pierluigi Rausei che io ringrazio moltissimo e con la sua rubrica parole di lavoro ci riaggiorniamo per martedì prossimo. Radio linea numero uno perfetta in radio, in tv o sul tuo smartphone. Radio linea numero uno la radio che ascolti e vedi.